e ciao ragazzi qui è l'anx system e tornati un nuovo video facciamo un piccolo chest opening di otto casse brawl e due enormi iniziamo dalle 8 quindi facciamo la prima non penso di trovarci molto perché ho già trovato bibi da da poco c'è da non troppo grande delle già mi servono questa un biglietto non mi serve un mio già 95 perfetto niente di troppo niente di troppo interessante anche brule che non uso molto spesso intanto proprio l'altro gen adesso queste due grande appena appena poter potenziali subito vivi a livello 2 adesso è un altro biglietto che non mi serve a niente di solito non prendo male generale su questo registrato le trovo facciamo anche una bella partita che vi faccio vedere cosa riesco a fare con bibi che questa è una mappa per parte che sposto con questo che vi faccio vedere come funziona fuori campo se non lo sapete lancio una bella gomma da masticare infatti ho fatto ho fatto una buona mossa rilevando dove era uno dei nemici ma ovviamente ogni volta che faccio una kill muoio perché c'è sempre quel bo del cavolo che si prende tutte le kill che si prende la mia kill guarda dove erano tutti come facevo a dirvi che lo sapevo guarda qui non sapevo a dirvi o che si prende la mia kill E vabbè, c'è una parola, c'è una parola, c'è una parola, c'è una parola, c'è una parola in base. In questa parola me la immaginiamo più forte Vivi, in questa parola. Lo sapevo, lo sapevo, è crashato, adesso lo metto anch'io, boh, anzi no, faccio un video solo per Vivi. Vediamo come ce la caviamo in una raffreddata, ancora. Questa è ancora la mappa Vivi, non è troppo forte. Ok, disbalzo. Allora, la barra del fuoricampo in football è abbastanza utile perché ti permette di sbalzare il nemico e sbalzando il nemico lui perde la palla. E se perde la palla non può più farvi gol. In alcuni casi è utile. Dobbiamo uccidere quella rossa. Non io ho fatto niente. Non io ho fatto niente perché cavolo è stato arrivato allo scudo. Adesso sì, adesso sì.